Vogliamo mettere in campo progetti, innovazione, ma soprattutto il culto di un territorio che è stato vilipeso, soprattutto da avventizi, da persone che molto spesso si sono prestati impropriamente alla politica senza avere nulla da dare. Non sono io in prima persona, è una squadra che vuole dare un contributo essenziale alla crescita armonica di una città e soprattutto al reperimento di quelle risorse che non può essere fatte solo con la parziale partigiana appartenenza ad una parte politica, ma vedendo a tutto campo e scegliendo gli uomini e le donne migliori per far crescere una città che è in chiaro affanno. Ecco l'ultima, quali saranno gli step successivi? Allora noi ci stiamo continuando a incontrare, stiamo portando all'esame varie progettualità, ognuno per il suo e soprattutto stiamo verificando quali sono i margini di manovra per il reperimento di risorse che non siano legate al bilancio nazionale e a interventi spot, ma che abbiano una valenza su un progetto che veda il rilancio della città di Chieti attraverso una visione urbanistica, culturale e soprattutto vocazionale di ampio spettro.